Come vi sentireste se entrate in una macchina, siete pronti per il vostro viaggio ma non sapete qual è la vostra destinazione, non sapete quali sono le vostre fermate, non sapete cosa fare e perché, se restate senza benzina, se si buca una ruota. Ecco, questa nella mia esperienza è uno dei drammi delle persone che onestamente vogliono mettersi in discussione, vogliono andare ad investigare chi sono e perché sono qui e cioè l'incomprensione, il non ricordarsi il piano di incarnazione. È come se noi avessimo deciso esattamente quale fermate fare in questo viaggio, che tipo di benzina voler usare, che tipo di macchina, che tipo di ruote, che tipo di colore. Ogni parte del nostro viaggio ha una sua funzione specifica, sia le nostre sfide che i nostri talenti. Ognuna delle nostre difficoltà, in ogni ambito della nostra vita, è proprio stata scelta per poter attivare, ricordare, approfondire, far maturare alcune qualità divine. E allo stesso tempo alcuni talenti vogliono essere manifestati per permetterci un certo tipo di servizio. Lavorare quindi sul tema dei nostri talenti senza comprendere il ruolo delle nostre ferite, senza comprendere il perché di certe sofferenze, vuol dire un po' camminare alla cieca e sentire di subire. È per questo che molti si sentono vittime, si sentono parti di situazioni ingiuste, vivono relazioni che non vogliono e che non li fanno bene, quindi hanno una parte che rimane succube di tutta una serie di aree nella loro vita. Se non comprendiamo la chiave di svolta, e cioè perché abbiamo deciso certe cose? Perché tra le infinite possibilità abbiamo scelto quei genitori, quelle difficoltà, quei talenti, quella città dove nascere, quel tipo di traumi generazionali, quel tipo di parto. Ogni cosa è esattamente meravigliosamente studiata della nostra anima per permetterci un viaggio molto preciso. Poter comprendere questo ci permetterà non solo di rilassarci e di vivere questo viaggio in modo totalmente diverso, ma di accelerare la possibilità di come affronteremo ogni possibile incidente sul percorso. Quindi comprendere a fondo l'origine e la motivazione del nostro piano di incarnazione. È la chiave per allinearci al perché siamo qui, a cosa ci facciamo qui e a come metterci al servizio qui.